E' siciliano? Sì, direttore, sono di Militello e mio padre è di tre mestieri. Non me ne fott una minchia di dove è tuo padre, con tutto il rispetto. Io non faccio favoritismo a nessuno, tantomeno è siciliano. Anzi, mi stanno pure sui coglioni i miei conterrani che delinquono. Sono stato chiaro? Sì. Questa non è la grotta di Babbo Natale, barone. Che cos'è questa storia del computer? Niente, alle nuove mi avevano concesso di poter scrivere delle lettere. Delle lettere? A chi le deve scrivere le lettere, barone? È il giornale? No, no, è il giornale, no. Se sono lettere private le puoi scrivere pure a mano, barone. Il computer. Ma lo sai quanto costa un detenuto allo Stato? Lo sai quanto costa, barone? No. 120 euro al giorno. Come un bell'albergo a quattro stelle, barone. Solo che questo è un carcere. Ricordatelo, barone. Puoi andare? Signor direttore, io volevo solo un attacco per la corrente. Barone, io so tutto di te. So che sei un rompiscatole, che ti sei tagliato le vene, che hai pestato un detenuto alle nuove mentre altri due lo tenevano, giusto? Vedi di ricare il rito, barone. Sennò la vita è dura per te qua dentro. Puoi andare, barone. Puoi andare, barone. So las Men какие pi culiche. Betro, Rules.